buongiorno buongiorno a tutti sono sono marco polenghi e abbiamo siamo qui insieme questa mattinata appunto per aprirvi la nostra azienda a un concetto di lavoro un concetto di programmazione progettazione di quello che potrebbe essere il vostro futuro e intanto sono molto contento di questa iniziativa che ha organizzato a solombarda e che comunque è sempre ben accolta dalle studenti e anche dalle dalle scuole che investono questi questi momenti e questi minuti di confronto tra mondo del lavoro e studenti e persone del futuro ecco quello che tengo a dirvi è appunto che questa è un'azienda familiare un'azienda fondata da mio padre circa una cinquantina di anni fa e che ha avuto questo come posso dire intuizione di portare il succo di limone in un contesto internazionale dove succede questo in sicilia no in brasile no in messico no succede nell'odigiano ecco che è la terra dove non ci sono limoni ma dove c'è cultura del lavoro e questa cultura del lavoro va oltre a dei limiti climatici agricoli ecco quindi questa è la determinazione con cui si perseguono degli obiettivi e si raggiungono dei risultati noi cosa cosa facciamo produciamo e confezioniamo questo bellissimo questa bellissima linfa questa ottima linfa per tutto quello che è il condimento tutto quello che è il benessere tutto quello che è la salute della persona e quindi lo star bene quindi è un prodotto polietrico il limone è una pianta generosa sappiate che non c'è un solo raccolto all'anno ma ci sono due o tre raccolti in un anno quindi è una pianta generosa sia da un punto di vista quantitativo e sia da un punto di vista qualitativo ha delle proprietà chimico fisiche importanti e quindi noi nella nostra missione c'è appunto quello di risponderlo il più possibile in ogni angolo del mondo questo che vi faremo vedere è lo stabilimento di staroccolporto è uno degli stabilimenti del gruppo l'altro stabilimento lo lo abbiamo in belgio e un altro ancora l'abbiamo e questo è il concetto strategico che è legato alla polenchi cioè quello di portare la materia prima dal luogo di raccolta quindi dalla sicilia piuttosto che dalla spagna al luogo del consumo quindi portare la materia prima e confezionarla sul posto vicino al consumatore quindi questo è un concetto di sostenibilità ambientale e di sostenibilità economica adesso ci muoveremo nel nel nostro contesto produttivo dove il processo che vedrete nasce dall'arrivo della cisterna delle tante cisterne dei succo di limone che arrivano a staroccolporto dove vengono lavorati e confezionati in base ai paesi di destinazione e in base anche alle ricette che il singolo cliente in internazionale richiede per il copio mercato quindi ci muoviamo e assolutamente partiamo da quello che è il contesto prego come dicevo questo è il contesto di partenza del prodotto finito partiamo dai piedi dal magazzino questo è un magazzino dove stocchiamo tutti i prodotti internazionali come come potete vedere questo questo prodotto va va in corea del sud questo questo prodotto va in in belgio questo in in germania questo va in francia altrettanto in francia questo va in sovracchia ecco tutte destinazioni questa repubblica ceca tutte destinazioni che sono legate ad un contesto internazionale ma da dove arrivano tutti questi prodotti finiti tutti questi prodotti finiti hanno un contesto di realizzazione ecco questa è la linea di confezionamento dove abbiamo diverse fasi la prima fase è quella è quella della produzione dei claconi la produzione dei claconi avviene sulle macchine dell'ossino soffiaggio e quindi sulla espressione noi partiamo da quello che è la materia prima la resida quindi il polimero il polimero di base e questo è il CHP per poi generare un circuito che arriva dal filo ad alimentare la macchina ad alimentare la macchina e ad avere un forno a vice dove da dove essono queste candele vuote quindi questo è esatto a filo per poi essere doppiate e prendere la forma del 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 dello stasso e quindi questa forma del del dimone che viene trasferito questo invece è un'altra tecnologia sempre per la posizione dei claconi partendo dalle dalle forme abbiamo questo riscaldamento a lampade e poi attraverso sempre il spiaggio e attraverso sempre questo trasferimento verso lo stagio e poi troviamo la fase della spiaggia dove le persone vengono copiate e in questo modo prendono la porta dello stampo che viene montato sulla macchina certo pensate ragazzi che è una macchina che produce circa 12 mila pezzi orari quindi riportando il percorso su quello che è la linea produttiva abbiamo l'orientatore l'orientatore dove tutte le bottiglie vengono aggileate su questo e poi hanno un percorso di trasferimento ad aria qui abbiamo invece la palettizzazione la palettizzazione dove appunto avviene l'allineamento di tutti i cartoni portati sul bancale strato per strato in base alla configurazione che mi viene data qui ritornando a monte ecco abbiamo questo trasferimento dei flaconi la prima fase questa è la linea di rinvinuto quindi questa è la cosiddetta fila ed è appunto sezionata in fasi la prima fase quella che abbiamo visto quella che abbiamo seduto è questa che è quella della la calificazione della bottiglietta quindi viene ripaltata e viene riettata aria sterile per poi passare alla prima fase di riempimento che è legata ad una giostra che gira e che trasferisce il succo che arriva dalla miscelazione nel flacone con un progetto volumetrico e poi viene riempita con l'olio essenziale attraverso il tappo un tappo in serbatoio che viene messo l'olio essenziale per il profumo mentre mentre ecco l'olio essenziale viene praticamente dosato con delle chiriche farmaceutiche da 0,7 al 0,17 e poi c'è la fase di tappatura la tappatura è la fase finale della prima tappa la seconda tappa è il controllo quindi abbiamo la radiografia di ogni singolo flacone quindi capiamo se la tappatura è eseguita nel modo opportuno se il livello del liquido è adeguato al contenuto e capiamo se c'è qualche deformazione o qualche problematica se vogliamo fare la prova apri il tappo apri il tappo apri il tappo con il pezzo in alto ecco adesso passiamo l'unitratia e poi il prodotto viene scassato ecco vedete che non può proseguire passa nella cesta e quindi solo quelli che oggi possono passare alla sliberatura la sliberatura che è praticamente l'etichetta l'etichetta con il film il film è sempre sempre il film e subito dopo questa sliberatura vedete che è solo un film cilindrico ma c'è una seconda fase che si chiama la fase di retrazione che avviene attraverso il passaggio in un film di vapore ecco vedete che in questo modo il film si retrae e prende la forma del flacone questo è il risultato chiudito dopo il film chiudito dopo scusate il percorso di retrazione del film ma abbiamo ancora due fasi da farvi vedere che la fase adesso arriva il momento dell'imballo l'imballo che è quello di portare nel contesto il vestito di un piccolo prodotto nel contesto di invallo da 15 testi e questo avviene attraverso questa testa si mostra dalla scanda da robot prima in una prima fase viene portata nel pastoio devo uscire perché se no non funziona in una fase del pastoio e la seconda fase appunto è quella del copercio che viene chiuso completamente la scatola tutti questi passaggi sono appunto affrontati in una logica meccanica e robotica appunto che tutti questi platoni che pensate che sono circa 2.000 platoni allora vengono poi convogliati in questo palettitatore come abbiamo visto prima per poi essere grossamente spediti ecco qui c'è l'allineamento e poi c'è lo spostamento verso il ragazzo questo è una delle linee di ripimento e di produzione che abbiamo in poletti se ne sono altre sette di questo tipo in questo stabilimento e se ne sono altre replicate gemelle degli stabilimenti del peggio e degli stabilimenti del stabilimento statunitense ecco, volevo fermarmi un attimo sullo stabilimento statunitense perché è importante questo passaggio noi abbiamo portato negli 7 minuti tutti i macchinari, tutte le prestature e tutte le linee al tempo per tempo italiane quindi abbiamo fatto veramente un percorso di trasferimento di tutto quello che è la tecnologia italiana e degli stabilimenti e devo dire che a livello di imbottigliamento di definenze, trasferimento, platoni, robotica eccetera noi italiani siamo in un contesto internazionale, siamo posizionati molto bene sia a livello di innovazione sia a livello di precisione e sia a livello di formazione quindi questa è la prima fase, è la prima fase che volevo farvi vedere e che volevo condividere con voi e qualora ci fossero delle domande da parte vostra sul processo o su quelle che sono le dinamiche di quindi con lo senso di quello che è il successo di buone io sono disponibile a questo passaggio allora noi rispondendo alla domanda legata ai profili allora noi sicuramente da un punto di vista industriale produttivo abbiamo la manutenzione dove ci sono i profili meccanici, elettronici e poi anche da un punto di vista del confezionamento con un profilo di di tecnici dei macchinari che abbiano una competenza almeno elettronica e un minimo di conoscenza meccanica mentre nel profilo della mischierazione quindi nel contesto di stupi di preparazione e ricettazione dei prodotti abbiamo un profilo legato alla tecnologia alimentare sì allora le competenze le non facciamo fatica a trovare competenze è difficile trovare competenze qualificate ecco questo questo sì con altri profili con una conoscenza e con una competenza internazionale eh questo eh sicuramente ehm eh è difficile trovarli ce ne sono pochi e e quei pochi comunque sono veramente eh tenuti stretti dalle dalle aziende eh eh dove dove oggi operano e stanno lavorando anche perché appunto c'è questo ehm questa discrezia tra eh domande offerta sì sicuramente la scuola eh deve avere una eh commissione tra eh o comunque unione integrazione eh tra teoria e pratica perché eh 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 c'è veramente questo percorso di eh eh di crescita e di formazione che deve abbinare eh queste queste due eh logiche didattiche eh di di teorica e e anche molto eh molto operativa per essere poi eh subito efficaci e intraprendere una vera e propria eh crescita persone段 тел e da robots da Dosmod� Dunque l'automazione eh quanto è importante l'automazione l'automazione ah secondo me è fondamentale eh per eh la crescita e lo sviluppo aziendale e eh eh l'automazione che viene vista a volte ancora eh muro che c'è un limite per occupazione e eh invece il Io dico che è veramente una crescita all'occupazione, perché come nostra esperienza personale mio padre aveva iniziato con otto persone in una gestione del tutto manuale dei processi. Oggi, grazie alla tecnologia, grazie all'automazione, abbiamo raggiunto mercati, profili geografici, consumatori, che non avremmo mai potuto raggiungere senza l'ingresso dell'automazione nel nostro processo produttivo e che oggi hanno permesso poi di raggiungere tutti questi sbocchi ed opportunità di mercato che ci danno poi la possibilità di evolvere e di sviluppare l'azienda e quindi di fare anche una crescita a livello occupazionale. Dagli otto che eravamo, oggi siamo in circa 195 persone e 195 collaboratori. La conoscenza dell'inglese oggi è fondamentale. Io penso che non si possa lavorare se non si conosce almeno una lingua straniera. L'inglese oggi è il minimo, è la base che si cerca in questo contesto. Una seconda lingua legata al tedesco o francese, oggi anche al cinese e all'arabo, sono sicuramente un percorso necessario per far sì che la coerenza aziendale del processo produttivo e dei processi produttivi sia legata ai mercati di sbocco dell'azienda stessa. La differenza tra una piccola impresa e una impresa strutturata, partendo da un percorso sempre di esperienza personale nostra, è un passaggio molto delicato che va gestito in un modo molto focalizzato sui processi e sulle persone, perché si passa da un accentramento dei poteri e delle decisioni ad un decentramento di responsabilità e competenze verso tutta la struttura. Quindi si va verso un percorso formativo, si va verso un percorso di responsabilizzazione delle persone, si va verso un approfondimento ed una specializzazione per competenza e per ogni singola attività. Sì, noi ad oggi abbiamo degli studenti che partecipano ai processi e dalla fase aziendale sia con l'università e sia anche con istituti tecnici superiori. Sì, dunque, allora, noi qui abbiamo in una gestione, la figura del meccatronico può essere legata in un contesto di manutenzione, di officina meccanica che è legata appunto a tutte quelle che sono le attrezzature e i macchinari che abbiamo in azienda e i piccoli accessori o comunque di piccole attrezzature o di piccoli elementi che possono essere di sostituzione a tutte quelle che sono le logiche di rotture piuttosto che di sostituzioni di fatti meccaniche dei macchinari che avete detto prima di tutto. Dunque, noi abbiamo circa 195 persone, siamo circa una sessantina di laureati, quindi è un terzo. I laureati sono sicuramente legati alla gestione amministrativa, finanziaria, quella sicuramente dei processi industriali e tecnologici piuttosto che l'area della qualità, la qualità legata al controllo qualità e all'assicurazione qualità, quindi la sicurezza alimentare è determinante nella nostra azienda, quindi nell'area marketing abbiamo sicuramente dei laureati e anche nell'area logistica e gestione dei flussi. Noi oggi abbiamo una collaborazione diretta con l'Università Cattolica sia di Milano che di Piacenza e quindi lavoriamo con l'inserimento di alcuni studenti nel contesto lavorativo nostro. La sicurezza sul posto di lavoro noi abbiamo cinque valori fondamentali che sono la leadership, la sostenibilità, l'etica, l'innovazione e la cultura. Nell'etica noi abbiamo sicuramente il contesto della sicurezza sul lavoro. Sono cinque valori che ogni mattina quando un nostro collaboratore o lo stesso Marco Polenghi entra in azienda se li vede in ufficio, nel reparto produttivo, nel reparto marketing, eccetera, e quindi sono cinque valori che devono permeare tutta l'azienda, tutti i collaboratori e tutti i processi che danno frutto a quello che è poi la quotidianità lavorativa e la sicurezza è imprescindibile. Non si va da nessuna parte senza sicurezza, senza sicurezza alimentare, senza sicurezza sul posto di lavoro, senza sicurezza dei mattinari, senza sicurezza dell'attrezzatore. Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, Polenghi, come avete visto nei processi industriali, i contenitori sono di plastica e oggi la plastica è un materiale che viene, tra virgolette, criminalizzato per il potere inquinante che oggi ha. Questo Polenghi se l'è posto non oggi, non ieri, ma ben dieci anni fa, quando abbiamo sviluppato, grazie alla nostra decisione del contesto plastico e quindi della produzione dei fraconi, abbiamo potuto studiare un prodotto al 100% riciclabile, studiare e brevettare un prodotto 100% riciclabile, 100% biodegradabile e con una percentuale al 95% di materiale utilizzato proveniente da risorse rinnovabili. Quindi da quella che è oggi il polibero prelevato da quello che è il contesto del mais. Quindi abbiamo questa PLA che è appunto proveniente da quelle che sono l'origine vegetale del materiale di base. Tutti i materiali se lasciati nell'ambiente inquinano, inquina il petro, inquina l'alluminio, inquina qualsiasi cosa. Quindi l'atteggiamento non è un atteggiamento di criminalizzazione verso il materiale, ma di criminalizzazione del senso civico delle persone. E questo è importante, perché la plastica oggi, se riciclata e se riciclata al 100%, è un materiale che può durare in modo permanente e continuo. Quindi noi siamo arrivati al riutilizzo dei materiali, noi il 30% dei flaconi oggi che produciamo sono prodotti attraverso del materiale riciclato. E quindi questo ci aiuta sempre a entrare in un contesto di economia circolare, di economia chiusa, che non va a chiedere risorse all'ambiente, ma sfrutta già quello che c'è. Quindi il processo che noi produciamo e riproduciamo quello che è stato consumato, ecco questo, è un contesto di sostenibilità ambientale. Pensate che noi abbiamo fatto il calcolo l'anno scorso, in un'ipotesi di totale conversione da plastica a vetro, come in ballo per il succo di bambino. Ed è uscito che con il vetro noi avremmo, solo per lo stabilimento qua di San Rocco, avremmo nell'anno 1.700 camion in più in entrata e in uscita e quindi di superaffollamento di quello che è la logica stradale, il CO2 perché i consumi di quello che sono i camion sono importanti e l'immissione dell'anidride carbonica è importante e quindi bisogna assolutamente non prendere di pancia questi approcci, questi argomenti, ma prenderli in una analisi molto approfondita e molto dettagliata di quelle che sono le logiche di filiera, di tutta la filiera del materiale e non solo di alcune parti o alcuni pezzi. La logica, il rapporto soft feel rispetto alle competenze tecniche, diciamo che in un contesto nostro aziendale le soft feel hanno un ruolo sempre più debole, questo è sicuramente un ruolo di un ruolo percorso che noi stiamo facendo. Non è più necessario essere generalisti ma si richiede una specializzazione e una competenza verticale di quello che sono le proprie stile e anche i propri stile legati a queste attività specifiche dei processi aziendali. Va bene? Io non vedo più domande, penso che sia stata un'esperienza positiva da parte vostra, da parte di voi giovani che siete veramente il futuro, vi state costruendo un certo percorso e quello che posso dire è che bisogna farti guidare veramente dalla passione e questo è quello che ti porta avanti, che ti fa vincere e risolvere tutte le problematiche, ma abbinata alla passione c'è veramente la competenza e la voglia di approfondire di curiosità, la voglia di soluzione e la voglia di crescere in un contesto culturale, aziendale ma anche civico e sicuramente sociale. Grazie a tutti.